Va bene, allora un saluto a tutti, io credo che l'argomento che affronta questo seminario, questo contributo di riflessione, sia di estrema importanza, perché sappiamo che ci sono grossi problemi che nelle tendenze attuali si stanno arrivando in materia di relazioni industriali e che sono una progressiva riduzione del tasso di sindacalizzazione e spesso anche una riduzione del tasso di copertura. Non sempre le cose si muovono nella stessa direzione, cioè possiamo avere bassi tassi di sindacalizzazione, ma altri tassi di copertura e viceversa. Quindi in questa condizione io penso che il Covid, tutta la crisi legata alla pandemia, non abbia fatto altro che mettere in evidenza alcune tendenze e alcune possibilità di soluzioni che già esistevano, un po' come per lo smart working, le condizioni di pandemia hanno fatto vedere che è possibile organizzare il lavoro in maniera diversa e quindi si è dato via all'organizzazione basata sull'idea dello smart working e questo ha rivelato che è possibile, poi quanto sia opportuno è praticabile nelle circostanze concrete, così penso che anche la possibilità di procedere a, come viene detto, realizzazione delle forme di contrattazione, di partecipazione sindacali in via telematica si sia rivelata possibile attraverso la pandemia che ha generato condizioni di necessità, cioè in molti casi è stato necessario procedere in quel modo. Ora però, accertata questa possibilità, probabilmente si apre tutta una nuova problematica che nasce dalle trasformazioni del mondo del lavoro, trasformazioni nella modalità di prestazione del lavoro, in cui più che mansioni stradandizzate si attendono partecipazioni basate sul risultato, sul problem solving, su lavori di gruppo, eccetera. La precarizzazione, la presenza di lavoro a tempo determinato, di lavoro in somministrazione e varie forme di prestazione di attività lavorativa. Il lavoro in piattaforma è un'altra modalità che, assieme alle altre, compromette, a mio parere, l'uso massiccio di una presenza sindacale e quindi alla lunga una diminuzione del potere corpore dei lavoratori, che poi questa riduzione si riflette in condizioni di lavoro più grave, in salari bassi, in realizzazione di contratti pirati, insomma uno sfaldamento, uno sbriciolamento delle relazioni industriali, dovuto alla progressiva individualizzazione della partecipazione della forza del lavoro e anche della contrattazione. Ecco, in questo contesto forse la prospettiva di ricorrere a strumenti digitali, a forme di partecipazione virtuale, di organizzazione virtuale del sindacato, di una forma di sindacato virtuale, probabilmente risolve alcuni di questi problemi. anche la dimensione delle piccole imprese, quindi la presenza di lavoratori in ambienti di lavoro caratterizzati da un ridotto numero di lavoratori e una forte presenza del datore di lavoro, scoraggiano la partecipazione, non si può parlare di assemblee nelle piccole imprese. Tutto questo isolamento, polverizzazione e prestazione del lavoro, forse può trovare una soluzione di cui peraltro già si parlava. Io ricordo che lanciai anche questa idea, ma già 7-8 anni fa, prima della pandemia, proprio come modalità di garantire una partecipazione dei lavoratori che non più realizzabile attraverso manifestazioni di massa o assemblee di massa, garantisse però una sorta di solidarietà, di legame tra i lavoratori, capace di generare una forma di potere di contrattazione sindacale, è basata su nuovi strumenti. Forse questa riflessione che si apre adesso con particolare riferimento alle assemblee sindacali, dovrebbe essere stesa a tutte le altre varie forme di presenza e di partecipazione dei lavoratori, che implica ovviamente anche alcune modifiche sul piano della regolazione, delle istituzioni, delle relazioni industriali, quindi normative, ma si basa fondamentalmente anche sull'uso delle nuove tecnologie, e proprio per garantire sia partecipazione all'interno delle strutture sindacali, sia un rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori, che questo contesto di dispersione, di polverizzazione, di precarizzazione, è difficile realizzare nelle forme tradizionali, e può trovare sbocco invece nell'uso dello strumento digitale, della partecipazione telematica. Quindi credo che questa riflessione sia particolarmente importante, non soltanto per gli studiosi delle relazioni sindacali, ma anche proprio per gli attori, per i soggetti, per le organizzazioni dei lavoratori, e per converso anche per le parti datoriali, perché anche loro hanno problemi di rappresentatività e quindi di partecipazione. Grazie a Marocco e anche ai coautori di questa indagine, penso che dalla riflessione vengano fuori suggerimenti utili per proseguire l'esplorazione e la ricerca su questi temi. La dottoressa Brunetti può procedere a condurre i lavori di questo seminario, che è il secondo, se non erro, che viene svolto in modalità mista, no? Presenza e telematica. Speriamo di andare sempre più verso l'organizzazione di seminari in presenza. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente, io passerei la parola direttamente a Manuel Marocco, che introduce e poi lascerà spazio a Silvia Donà per la seconda parte della relazione. Grazie. Mi levo una mascherina. Grazie Irene, grazie Presidente. Molte delle sollecitazioni che ci ha dato il professor Fadda in effetti sono state proprio alla base dell'inizio di questo studio, che io insieme a Silvia Donà stiamo in realtà conducendo da tempo, quindi da prima della pandemia. Abbiamo iniziato a lavorare su questo tema nel 2019 e questa è una citazione, Giuseppe Sacchi era un parlamentare del Partito Comunista, il riferimento è alla seduta parlamentare durante l'approvazione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970. questo riferimento storico è determinato dal fatto che uno dei temi di contrasto durante l'approvazione proprio della Statuto dei Lavoratori e che vide il contrasto tra i promotori di quella legge e la rivista giuridica di diritto del lavoro e della previdenza sociale, quindi della CGL e anche del Partito Comunista, proprio era attorno all'articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori, proprio a testimonianza del rilievo che anche nel dibattito di approvazione di quella legge ebbe questo articolo, poi più avanti ne mostrerò il testo, lì in quella sede quello che veniva lamentato era il fatto dei limiti che erano imposti ai contenuti dell'incontro e si lamentava in qualche maniera, ma questo era molto contrastato da Gino Giugni, sui limiti che erano imposti ai temi che potevano essere trattati in quella sede. Il nostro lavoro ha utilizzato una metafora che secondo noi è piuttosto efficace, quindi abbiamo parlato di ikikomori lavorativo e lavoro digitale. La metafora è efficace in due sensi, da una parte rispetto alle cause e anche rispetto alle soluzioni, cioè l'ikikomori è una sindrome che è stata per la prima volta riscontrata in Giappone, che colpisce i giovani adulti e che determina un progressivo ritiro sociale, è questa traduzione determinata da un ambiente esterno molto competitivo e qui troviamo la prima metafora, la prima similitudine in qualche maniera, cioè il mercato del lavoro, come ci ricordava prima il professor Fadda, è diventato particolarmente competitivo e questo in qualche modo ha determinato un mercato del lavoro strutturalmente solitario, determina competizione e rende quella che Giugni definiva una delle elementi essenziali dell'esperienza sindacale, cioè l'aggregazione almeno potenziale dei soggetti particolarmente complessa, quindi proprio nella fase genetica dell'avvio dell'esperienza sindacale vi è questa difficoltà oggettiva che è determinata dalle caratteristiche del lavoro digitale e dall'assenza di un luogo fisico di esecuzione della prestazione e da questo punto di vista, rispetto ai nostri primi studi, poi abbiamo avuto la pandemia, la pandemia che ha spinto il lavoro da remoto, ma non solo, è stata determinata innanzitutto, è stata determinata dalla necessità del distanziamento sociale, anche su questo mi sembra importante, io devo dire la verità, non ho mai amato questo termine sociale e in effetti c'è stato un dibattito anche tra i linguisti, ma da parte della stessa commissione, che ha detto è meglio parlare di distanziamento fisico e non sociale proprio perché esiste la tecnologia che può garantire in realtà la vicinanza sociale nel contesto di un distanziamento fisico e la spinta verso l'Ikiko Mori è stata anche determinata da quello che è accaduto nell'evoluzione economica di alcune tipologie di piattaforme digitali, cioè alcune di queste piattaforme durante la rispetto ad altre sono diventate una sorta di settore rifugio. Pensiamo all'e-commerce e al food delivery in contrasto con l'home sharing o con il car sharing, cioè abbiamo avuto una rimodulazione, il riposizionamento delle varie tipologie di piattaforme digitali e alcune in effetti durante la pandemia in qualche modo potrebbero avere accolto anche lavoratori che avevano ad esempio perduto l'occupazione o che erano comunque alla ricerca di lavoro. Comunque queste tendenze diciamo accoppiato insieme ad un elemento che ricordava lo stesso professore Fadda, cioè in un contesto di diminuzione dei tassi di sindacalizzazione accelerava, ha accelerato dei processi determinando dei rischi ancora più alto di quello che noi in qualche modo abbiamo definito i kikomori lavorativo e come dicevo la metafora funziona non solo dal punto di vista delle cause ma in qualche modo anche della risposta. Cioè chi ha studiato la sindrome diceva che le nuove tecnologie non sono la causa della sindrome, ma anzi sono probabilmente quello che garantisce alle persone che soffrono questa sindrome i contatti con l'esterno e in qualche modo alla stessa maniera come ricordava il professor Fadda cioè la tecnologia anche in questo contesto agisce come un giano bifronte in realtà seppur può vedere rappresentato un problema è anche lo strumento per rompere in qualche modo l'ikikomori lavorativo. Quindi anche qui da questo punto di vista crediamo che la metafora possa funzionare. Quindi noi da che cosa siamo partiti? Siamo partiti da due articoli dello statuto dei lavoratori l'articolo 20 e l'articolo 27 che appunto ho sottolineato le parti che in nero le parti rilevanti ai nostri fini. Quindi il diritto di assemblea è di riunirsi è riconosciuto sia fuori dall'orario di lavoro ma anche durante l'orario di lavoro entro una soglia legale e per la quale nel caso viene svolto durante l'orario di lavoro e quindi entro la soglia legale può essere corrisposta la retribuzione e poi vi è un ruolo molto importante della contrattazione collettiva in questo contesto la legge definisce il potere di convocazione e anche i temi che possono essere trattati collegato all'articolo 20 abbiamo l'articolo 27 che definisce un dovere di cooperazione datoriale cioè la necessità che a secondo diverse soglie venga garantita all'interno della sede fisica di esecuzione della prestazione di lavoro un idoneo locale comune per lo svolgimento dell'attività sindacale cioè una parte rilevante in particolare l'articolo il titolo terzo dello statuto dei lavoratori è dedicato proprio alla promozione dell'attività sindacale nell'ambito dei luoghi di lavoro quindi siamo partiti da questo contesto noi abbiamo presentato questo lavoro quindi quello del 2019 nell'ambito di un interessante confronto che è stato promosso dall'università Mercatorum e anche dall'università cattolica nel quale diciamo operativamente erano messi a confronto giuristi ma anche ingegneri informatici il professor Caldelli un informatico un ingegnere ci ha detto che il lavoro che fanno gli informatici è che tutte le volte in cui un servizio una funzione lui ci ha fatto l'esempio della bigliatteria ferroviaria deve essere trasferita dal mondo fisico a quello digitale l'informatica deve garantire la replica fedele di tutte le caratteristiche funzionali quindi noi partendo dall'articolo 20 abbiamo detto quali sono le condizioni essenziali perché questa replica funzionale sia garantita siamo partiti da tre elementi che ci pagliano essenziali però come dire siamo pronti ad aggiungerne anche altri questa è un'ipotesi allora innanzitutto è necessaria una bacheca sindacale elettronica perché è necessario garantire l'autenticità e la ricezione della comunicazione della convocazione ma anche che il potere di convocazione sia esercitato dagli soggetti legittimati così come definiti dall'articolo 20 dello statuto dei lavoratori l'altra questione è che l'applicativo di teleconferenza sia ceduto sia di licenza proprietaria dell'azienda cioè la replica funzionale del locale idoneo deve essere tale che tutto si svolge nell'ambito della intranet aziendale quindi anche l'applicativo di teleconferenza per garantire la replica funzionale deve essere quello che viene utilizzato nell'ambito dell'azienda tra l'altro questo devo dire proprio nel corso di quel convegno il professore speciale diceva che poteva essere sufficiente che il datore di lavoro fosse onerato fosse tenuto a pagare un applicativo in favore dell'organizzazione sindacale da questo punto di vista sebbene viene in qualche modo replicato funzionalmente una delle questioni fondamentali è quella della verifica della soglia legale prevista dall'articolo 20 quindi proprio l'applicativo di teleconferenza garantisce dell'azienda garantisce la verifica del controllo del rispetto della soglia legale e l'ultimo elemento è quella della criptografia end to end per intendi c'è quella di whatsapp in cui l'intermediario non possiede le chiavi di cifratura e questo è finalizzato chiaramente a garantire il rispetto e la privacy e la tutela delle opinioni espresse durante l'assemblea sindacale dalle organizzazioni dei lavoratori e dei lavoratori quindi questi ci pagano i primi tre elementi essenziali allora che cosa abbiamo fatto abbiamo verificato quello che è accaduto durante la pandemia la pandemia ha come ricordava ancora una volta il professor Fadda ha imposto un obbligo di necessità quindi noi abbiamo riscontrato la presenza di tre accordi settoriali che hanno disciplinato in maniera esplicita ne esistono anche aziendali poi ritornerò su uno aziendale in particolare che hanno disciplinato l'assemblea da remoto e quello che abbiamo verificato è che chiaramente i livelli è una sorta di gerarchia che i livelli sono decisamente condizionati dall'uso che già e dalle caratteristiche della prestazione lavorativa e dal livello di uso delle tecnologie che era già presente in quei settori il primo sono tutti e tre accordi siglati nel 2020 alcuni dei quali proprio di carattere emergenziale cioè erano legati all'emergenza e quindi sono anche diciamo stati superati però per noi a livello diciamo ricostruttivo è importante citarli nel primo che è quello del settore metalmeccanico data la prevalenza della presenza fisica si arriva a un paradosso che anche per i lavoratori in smart working si diceva che era richiesta se possibile la partecipazione in presenza e questo accordo fondamentalmente questo protocollo era fondamentalmente finalizzato a rendere possibile la gibità sindacale nel rispetto della normativa di tutela della salute quindi diciamo la possibilità di esercizio in modalità digitale ad esempio il diritto dell'assemblea era veramente residuale un altro accordo settoriale che abbiamo riscontrato nell'ambito del lavoro interinale nella somministrazione di lavoro qui la digitalizzazione è una estrema razio ma tra l'altro non c'è alcun dovere di collaborazione e di cooperazione del datore di lavoro quindi il diritto di partecipare alle assemblee sindacali è garantito dalla stessa organizzazione sindacale attraverso una propria piattaforma informatica in senso diciamo gerarchico e quindi per così dire rispetto alla nostra gerarchia al top è l'accordo e il protocollo che è stato esiglato nell'ambito del settore bancario come dicevo sempre del 2020 anche in termini temporali è l'ultimo credo che è stato esiglato del dicembre del 2020 che è proprio relativo al diritto di condurre le assemblee da remoto qui l'obbligo di cooperazione datoriale è esplicitamente previsto seppure nei limiti della normale peritività dei sistemi di sicurezza IT tra l'altro diciamo voglio ricordare un ultimo accordo aziendale che è stato che mi pare molto interessante perché diciamo il diritto di assemblea la possibilità di utilizzare il diciamo l'intranet aziendale e gli applicativi di teleconferenza propri del datore di lavoro deriva dal è sistematicamente ricompreso nella disciplina dedicata agli strumenti aziendali quindi una volta definiti gli strumenti aziendali tra questi appunto per i lavoratori in smart working è limitato l'uso degli strumenti di questi strumenti è esplicemente prevista e di conseguenza proprio perché ormai fa parte della sedia aziendale anche l'uso di questi strumenti per lo svolgimento delle assemblee da remoto un'altra un'altra delle questioni e quindi adesso passo la parola alla dottoressa Silvia è che pone che pone quello che abbiamo definito l'ikikomori è il diverso approccio a questo io fino ad ora ho parlato di lavoro subordinato l'altra questione fondamentale è la differenza ampiezza dell'esercizio dei diritti sindacali quando si si va oltre i confini del lavoro subordinato ma su questo tema lascio la parola a Silvia grazie allora grazie a Manuel grazie Irene allora Manuel ha anticipato il tema che tratterò io che riguarda appunto l'esercizio dei diritti sindacali oltre il lavoro subordinato e quindi anche per quanto riguarda i lavoratori autonomi in particolare i lavoratori delle piattaforme digitali di lavoro allora qua dobbiamo dire che c'è un contrasto nella giurisprudenza europea quindi un rapporto complicato tra la contrattazione collettiva e il diritto della concorrenza e questa problematica è stata affrontata appunto da un'iniziativa della commissione europea che è oggetto di una consultazione pubblica che si è conclusa il 31 maggio 2021 allora l'iniziativa iniziativa mira proprio a a definire il campo di applicazione del diritto europeo della concorrenza cercando di favorire appunto la contrattazione collettiva per i lavoratori non soltanto subordinati ma anche autonomi e cercando però di fare in modo che le piccole e medie imprese e i consumatori possano beneficiare allo stesso modo di prezzi competitivi e di modelli imprenditoriali innovativi anche per quanto riguarda l'economia digitale la questione rispetto alla quale la commissione annuncia l'adozione di atti entro la fine del 2021 proprio a ridosso della consultazione pubblica appena ricordata deve essere inquadrata nella contrastata giurisprudenza europea sulla compatibilità di questa contrattazione con l'articolo 101 TFUE il quale considera incompatibile con il mercato interno e quindi vetati tutti gli atti che hanno per effetto quello di impedire restringere o falsare il gioco della concorrenza in questo caso appunto volevo introdurre volevo parlare di alcune sentenze della Corte di Giustizia europea innanzitutto la sentenza Albani del 1999 in cui la Corte di Giustizia appunto ha affermato che non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 101 TFUE la contrattazione collettiva dei lavoratori subordinati mentre rientra nel campo di applicazione dell'articolo 101 TFUE la contrattazione collettiva dei lavoratori autonomi quando però questi sono considerati come impresa a livello euro unitario successivamente sull'ampiezza della stessa esenzione Albani si è pronunciata sempre la Corte di Giustizia con la sentenza FNVU-Custen del 2014 qua la Corte affronta sempre la questione della compatibilità tra la contrattazione collettiva e la tutela della concorrenza a livello euro unitario e la Corte di Giustizia ha rifiutato di estendere l'esenzione Albani a tutti i lavoratori autonomi a meno che non si tratti di falsi autonomi quindi c'è l'esenzione Albani per i lavoratori subordinati i lavoratori autonomi non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 101 TFUE a patto però che siano lavoratori non falsi autonomi perché i falsi autonomi in realtà riconducono poi a un rapporto di lavoro subordinato quindi vogliamo dire c'è un assistiamo a un cambiamento di paradigma allora certamente il tema viene affrontato dalla Commissione Europea e quindi diciamo come ha detto anche il professor Farda come ha detto anche Manuel è un problema emergente quello della compatibilità tra la contrattazione collettiva e la tutela della concorrenza anche perché se ne sta occupando sia la Commissione Europea ma anche il diritto interno e quindi bisogna garantire che il diritto europeo della concorrenza non ostacoli la contrattazione collettiva da parte di coloro che ne hanno bisogno e questo può essere parte di un puzzle per garantire che le condizioni di lavoro di alcuni lavoratori autonomi comprese le persone che lavorano attraverso le piattaforme migliorino quindi diciamo questa iniziativa a livello europeo e questa giuristrudenza questo contrasto europeo tra la contrattazione collettiva e il diritto della concorrenza ci fanno capire che il problema esiste che tempo e che ormai è tempo di agire vi ho detto che noi abbiamo affrontato la questione dell'estensione dei diritti sindacali oltre il lavoro subordinato parlando appunto sia dei lavoratori autonomi e quindi anche dei lavoratori che lavorano tramite piattaforme digitali ora qua c'è una difficoltà anche per quanto riguarda la qualificazione giuridica perché appunto il lavoratore su piattaforma digitale viene classificato da alcuni come lavoratore etero organizzato abbiamo la sentenza della Cassazione 1663 del 2019 poi secondo altri invece è anche lavoratore sono lavoratori autonomi vediamo degli accordi decentrati che poi vi illustrerò in cui vengono considerati come autonomi c'è anche chi lo considera come lavoratore subordinato ma soprattutto altri paesi come la Spagna che ha appunto fatto una legge in tal senso quindi dobbiamo dire che questa questione dell'estensione dei diritti sindacali anche per i lavoratori delle piattaforme digitali di lavoro viene argomentato e viene preso in esame anche da una ulteriore iniziativa a livello europeo che riguarda come migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite piattaforma digitale questa iniziativa è costata di due consultazioni la prima che si è verificata dal 24 febbraio al 7 di aprile 2021 e l'altra invece che si è conclusa il 15 settembre scorso ora siamo in attesa o di un accordo o di una proposta entro la fine del 2021 ma quali sono stati quali sono gli elementi su cui la consultazione delle parti sociali si è concentrata allora innanzitutto si è concentrata come ho accennato anche prima sullo status giuridico di questi lavoratori e quindi sulla qualificazione giuridica di questi lavoratori perché il fatto che siano qualificati come subordinati autonomi o etero organizzati cambia moltissimo per le tutele che devono essere apprestate e quindi anche per l'esercizio dei diritti sindacali che è il tema che a noi ci interessa un altro elemento su cui la consultazione ha comunque ha discusso è stata sulle decisioni completamente automatizzate il cosiddetto algoritmi algoritmic management e vediamo che questo è un elemento molto importante delle piattaforme digitali di lavoro abbiamo anche una sentenza del consiglio di stato dell'8 aprile 2019 la numero 2270 in cui vediamo che proprio per processi completamente automatizzati insegnanti che avevano più anzianità di servizio e quindi più esperienza si trovavano in fondo alla graduatoria mentre insegnanti diciamo meno qualificati con meno anzianità di servizio si trovavano invece al vertice della graduatoria e quindi questo dimostra appunto che c'era una discriminatorietà nei giudizi che non è stata potuta non è stata corretta nemmeno dalla giurisprudenza e dai giudici che non conoscono bene l'algoritmo l'algoritmo quindi questo è un altro punto molto importante su cui la commissione europea ha diciamo affrontato un tema che è stato affrontato l'altra questione è quella della dimensione sovranazionale delle piattaforme e quindi sulla difficoltà di capire qual è la normativa nazionale da applicare infine l'ultimo nodo che è stato affrontato è stato quello della difficoltà della rappresentanza e della contrattazione collettiva che è proprio il tema che ci interessa la consultazione chiaramente sollecita anche sui possibili strumenti a disposizione dell'Unione Europea legislativi e non che possono essere appunto utilizzati secondo i trattati la consultazione potrà concludersi con il perfezionamento di un accordo ex articolo 155 TFUE e l'articolo 155 specifica che il dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione Europea può condurre se queste lo desiderano a relazioni contrattuali comprensive anche di accordi tali accordi che si sono conclusi a livello dell'Unione Europea sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli stati membri e a richiesta congiunta delle parti firmatarie in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione oppure in assenza di un accordo ci può essere la presentazione di una proposta da parte della Commissione Europea entro la fine del 2021 quindi vediamo che le due iniziative a livello europeo sia la prima che riguarda il rapporto tra la contrattazione collettiva e la tutela della concorrenza sia questa che riguarda come migliorare le condizioni dei lavoratori su piattaforma digitale sono ancora in una fase diciamo intermedia perché ci sarà appunto l'adozione di proposta o di atti entro la fine del 2021 ora dobbiamo dire ma come cosa è successo invece nell'ordinamento italiano come l'ordinamento italiano ha affrontato il tema del food delivery via app e dei diritti sindacali in Italia allora qua abbiamo il cosiddetto decreto rider la legge 128 del 2019 la quale predispone un doppio binario regolatorio da una parte c'è una disciplina settoriale in favore esclusivamente dei rider qualificati come autonomi e questa disciplina settoriale riguarda in particolare delle tutele proprio specifiche per i rider quali ad esempio la forma stitta del contratto la tutela antidiscriminatoria la tutela della privacy la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro le garanzie assicurative e dall'altra invece c'è un'estensione del campo di applicazione del lavoro subordinato tramite l'estensione della nozione di etero-organizzazione qui diciamo che la nozione di etero-organizzazione è stata questa estensione di questa nozione è avvenuta grazie alla modifica dell'articolo 2,1 del decreto legislativo 81 del 2015 e in particolare c'è stata proprio una chirurgica modifica come abbiamo sostenuto di questo articolo proprio perché c'è stata la sostituzione dell'avverbio esclusivamente con l'avverbio prevalentemente quindi per estendere il campo di applicazione dell'articolo per quanto riguarda la personalità delle prestazioni del collaboratore e poi c'è stata l'eliminazione in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro in ordine all'organizzazione da parte del committente delle modalità di esecuzione della prestazione e ora dobbiamo dire che la legge 128 del 2019 ha anche effettuato e questa è una parte che noi abbiamo sottolineato proprio perché poi ci permette lo studio anche di altri contatti collettivi sia nazionali che aziendali la legge grazie al combinato disposto dell'articolo 2,2 del decreto legislativo 81 del 2015 che dice appunto che gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono autorizzati a intervenire sulla disciplina del lavoro subordinato al lavoro etero organizzato e dall'altra quindi il combinato disposto dell'articolo 2,2 lettera del decreto legislativo 81 del 2015 e l'altro è l'articolo 47 quater comma 1 che dice che i contratti collettivi stipulati dalle stesse organizzazioni possono definire criteri di determinazione del compenso e quindi grazie al combinato disposto di questi due articoli viene fornita dalla legge un'ampia delega alla contrattazione collettiva e quindi vediamo poi come le parti sociali hanno utilizzato questa delega e come hanno visto appunto l'estensione di diritti sindacali oltre il lavoro subordinato ovviamente nella legge non c'è nessun riferimento specifico ai diritti sindacali allora la contrattazione collettiva nel food delivery live app rimane un problema aperto qua dobbiamo dire che noi abbiamo analizzato quindi alcuni contratti collettivi un protocollo un accordo integrativo aziendale proprio per verificare come sono come vengono disciplinati i diritti sindacali nel lavoro autonomo quindi nel lavoro su piattaforma digitale allora innanzitutto abbiamo affrontato abbiamo parlato abbiamo visto il contratto collettivo nazionale per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto di terzi effettuata dai lavoratori autonomi cosiddetti rider cioè l'accordo a su delivery UGL che è stato firmato il 15 settembre 2021 come è noto qua c'è una regolamentazione incompleta dei diritti sindacali posto che i rider sono considerati come lavoratori autonomi che decidono di fornire il proprio lavoro di consegna di prodotti per conto di terzi sulla base di un contratto con uno più piattaforme come dice l'articolo 1 del contratto collettivo stesso ma abbiamo analizzato anche gli articoli che si riferiscono ai diritti sindacali innanzitutto abbiamo visto l'articolo 29 che viene rubricato proprio diritti sindacali ma in realtà parla molto poco di diritti sindacali qua in realtà viene disciplinato il solo sostegno in particolare economico all'attività dell'organizzazione sindacale e in particolare la discussione del contributo sindacale il cosiddetto gettone di presenza per i componenti di nomina della commissione bipartita che è disciplinata nell'articolo 25 dell'accordo e infine i permessi retributivi dei dirigenti sindacali tra i compiti della commissione bipartita che è un altro diciamo elemento che può ricondurre i diritti sindacali via il monitoraggio delle informazioni fornite dalle piattaforme sulla stipula e la cessazione dei rinnovi dei contratti di lavoro la programmazione di interventi di contrasto al caporalato e al lavoro irregolare e poi interessante l'istituzione di un ente bilaterale che è indicato in articolo 26 del contratto collettivo che fornisce strumenti di welfare anche ai rider e questo come diceva anche in un volume il professor la professoressa Lai il professor Lai la professoressa trovò nel 2015 è un elemento di novità perché quello che si diceva era che questi strumenti di welfare in realtà non fossero estesi ai lavoratori che vertono in condizioni di fragilità e invece la previsione di questi strumenti anche per i rider è un elemento appunto che ha colpito piacevolmente l'ultima traccia rinvenibile nel contratto collettivo dei diritti sindacali è proprio l'articolo 27 relativa a diritti di informazione qui ci si limita a prevedere l'incontro annuale tra le parti firmatari per cambiarsi informazioni sullo stato di attuazione del contratto come vediamo il contratto collettivo quindi dà una regolamentazione molto incompleta dei diritti sindacali non viene prevista nemmeno l'assemblea sindacale nemmeno nella forma digitalizzata come invece gli accordi che aveva detto Manuel in precedenza ne parlano e la regolamentano e inoltre dobbiamo dire che l'accordo il contratto collettivo poteva rappresentare un'occasione di una modalità di rappresentanza dei lavoratori autonomi in condizioni di fragilità ma invece questa occasione è andata persa l'accordo ha causato dei contrasti i contrasti sono stati appunto quella dei rider x diritti che hanno fatto uno sciopero il 26 marzo 2021 e hanno considerato l'accordo come accordo pirata e hanno sospeso il servizio per un giorno e invitato i clienti a non ordinare per quel giorno stesso ma la protesta è avvenuta anche per i sindacati confederali che hanno spinto il ministero a contrastare l'efficacia del contratto collettivo nazionale di lavoro allora successivamente in dichiarata opposizione con il contratto collettivo nazionale di lavoro è stato siglato il 2 novembre del 2020 il protocollo attuativo dell'articolo 47 bis del decreto legislativo 81 del 2015 il contratto collettivo nazionale logistica trasporto merci e spedizione questo fa un passo in avanti rispetto al contratto collettivo perché ai rider sempre qualificati come autonomi si applica lo statuto e in particolare si applica la disciplina del titolo terzo che come ha detto Manuel appunto ricomprende anche il diritto di assemblea e vediamo che questa l'applicazione del titolo terzo anche un elemento interessante è che questi diritti possono diritti sindacali possono essere esercitati anche mediante strumenti digitali quindi si prevede una digitalizzazione dei diritti sindacali peccato però che l'operatività dell'estensione è rimessa a un successivo regolamento nazionale che può essere recepito però a livello territoriale e aziendale ma il regolamento non è stato siglato e quindi l'accordo sul punto rimane inattuato quindi vediamo anche se c'era uno slancio per un'estensione dei diritti sindacali oltre il lavoro subordinato per i rider autonomi una digitalizzazione degli stessi purtroppo rimane un accordo inattuato infine l'ultimo accordo che noi abbiamo analizzato è stato l'accordo integrativo aziendale di Just Eat che è una nota piattaforma di food delivery e le organizzazioni sindacali qua dobbiamo dire che è stato siglato il 29 marzo 2021 e una cosa importante dell'accordo integrativo aziendale è che i rider vengono considerati come lavoratori subordinati quindi i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituiscono la forma comune di rapporto di lavoro per questo contratto integrativo aziendale appunto ci interessa nello specifico l'articolo 22 che all'ultimo punto disciplina un'assemblea sindacale anche in modalità digitale oppure presso locali aziendali idonei allo scopo messi a disposizione dalla società o dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo quindi seppure l'articolo rappresenta un passo in avanti perché considera appunto parla di una prevede un'assemblea sindacale in modalità digitale però dobbiamo dire che in realtà non c'è una regolamentazione specifica di come esercitare l'assemblea sindacale in modalità digitale non c'è una pedistica traslazione tra il mondo fisico e il mondo digitale rimane un po' inattuato diciamo quest'articolo e poi i dubbi interpretativi sorgono per quanto riguarda l'assemblea sindacale in presenza proprio per questa formulazione della norma che come vi ho detto può essere questa assemblea in modalità digitale oppure presso locali aziendali che possono essere forniti dalle organizzazioni sindacali o dal datore di lavoro e questo in realtà va in antitesi anche con quella che è la nostra proposta perché l'assemblea sindacale in presenza ma anche quella digitale la dotazione dei locali dovrebbe essere in capo al datore di lavoro e non alternativamente alle organizzazioni sindacali o al datore di lavoro e quindi dobbiamo dire questo riportato anche da una professorezza di meo nell'ultimo numero di lavoro che è interamente dedicato all'accordo e questo crea quindi dei dubbi interpretativi e sarebbe stato meglio in tal senso che la norma non avesse formulato questa possibilità di dotazione dei locali aziendali in capo alle organizzazioni sindacali o in capo ai datori di lavoro perché in questo senso da un'interpretazione sarebbe potuto desumere che la dotazione dei locali fosse in capo al datore di lavoro e poi essendo un accordo integrativo aziendale va detto che si poteva vedere verificare il luogo di prestazione più consono a questi soggetti e il luogo di prestazione più consono a questi soggetti è appunto la strada e quindi sarebbe potuto pensare che il datore di lavoro potesse fare un'istanza al comune per chiudere una parte di strada e proporre un'assemblea in presenza anche su strada ma comunque in questo riguarda l'assemblea in presenza mentre il nostro studio la nostra proposta dal 2019 riguarda appunto la proposta di un'assemblea sindacale in forma digitalizzata quindi una traslazione dal mondo fisico al mondo virtuale e soprattutto però vogliamo dire che questa traslazione dal mondo fisico al mondo virtuale non vuole essere integrativa non vuole essere sostitutiva a quella face to face ma vuole essere integrativa di accompagnamento a quella face to face dove quest'ultima sia possibile ma insomma torniamo alla domanda principale è possibile l'estensione in forma digitalizzata dei diritti sindacali per i lavoratori autonomi su piattaforma digitale allora in realtà si può fare è possibile però ci sono dei ma e i ma sono due allora il primo è che quando ci si muove dal mondo fisico a quello virtuale le caratteristiche funzionali degli istituti giuridici e non solo dovrebbero essere sempre fedelmente replicati come diceva bene Manuel per quanto riguarda con una citazione con l'esplicazione di quello che poi diceva il professor Caldelli in un altro convegno quindi ci deve essere la replica funzionale dal mondo fisico al mondo virtuale altrimenti c'è il rischio di disintermediazione e che cosa significa disintermediazione? significa che la tecnologia in realtà ha portato a un avvicinamento a favorire rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori in questo caso anche i rider con il rischio di esclusione del sindacato solo se invece c'è una traslazione pedissequa dal mondo fisico a quello virtuale si interrompe questo rischio di disintermediazione e ogni parte ha il suo giusto ruolo e quindi c'è questa traslazione molto pedissequa l'altro elemento che è ostativo diciamo è lo status giuridico dei lavoratori la famosa qualificazione giuridica dei lavoratori che continua purtroppo a pesare perché vediamo una grande differenza tra ad esempio gli accordi di cui ha parlato Manuel dei lavoratori subordinati che non solo vedono riconosciuti diritti sindacali ma vedono anche una digitalizzazione dei diritti sindacali e lavoratori autonomi che sono ancora al di fuori del campo di applicazione delle tradizionali norme di protezione del lavoro anche per quanto riguarda i diritti sindacali ora c'è da dire anche una piccola riflessione che in realtà questa nozione di lavoro subordinato sta cambiando sta mutando c'è un recente articolo di Stefano e di Aloisi in cui si vede che questa nozione di lavoro subordinato non è più calzante l'articolo 2094 codice civile per questi lavoratori perché l'articolo 2094 dava degli indici rilevatori per la subordinazione che erano la sottoposizione delle direttive e l'esercizio dei poteri datoriali cioè il potere di controllo il potere disciplinare il potere direttivo ma proprio di Stefano e Aloisi dicono che va riformulata diciamo va cambiato il concetto di subordinazione e in realtà il lavoro subordinato è in realtà la messa a disposizione nei riguardi di altri soggetti con un lavoro prevalentemente personale quindi come diceva anche nell'articolo 2,1 del decreto legislativo 81 del 2015 quindi ritorna questo lavoro prevalentemente personale e poi senza il rischio di impresa quindi senza che ci sia l'assorbimento e quindi senza che pesi su questi lavoratori subordinati il rischio di impresa allora io ho terminato qua e vi ringrazio per l'attenzione grazie mille Silvia e grazie ancora a Manuel a questo punto credo che i microfoni di chi sta ascoltando online siano attivi o dovrebbero essere attivati così che ognuno possa fare la domanda direttamente intanto ai presenti in sala se avete delle domande dei commenti da fare basta avvicinarsi al microfono buongiorno grazie Manuel grazie Silvia per questa trattazione che al di là diciamo dell'aspetto tecnico giuridico affronta con questa veste delle problematiche core del mercato del lavoro che stiamo affrontando in questo momento e quindi la mia domanda è proprio in questa prospettiva quello che voi avete chiamato disintermediazione che ha un aspetto appunto come ci spiegava Silvia prima proprio meramente anche tecnico giuridico in realtà dietro di sé mi sembra che si porti un concetto molto più ampio cioè il ruolo della rappresentanza in questa fase di transizione e di profondo cambiamento cioè al di là dell'aspetto tecnico del come e del dove esercitare il diritto sindacale vi chiederei una vostra riflessione ovviamente a pure tutti proprio su peculiarità e rischi di questa disintermediazione grazie Valentina il termine non è usato a sproposito quello di disintermediazione tra l'altro questo stesso lavoro lo abbiamo presentato anche all'ultima conferenza europea di relazioni industriali e una delle questioni che ci ha posto il discasso il professor Meardi riguardava in particolare diciamo il ruolo sindacale in effetti il termine disintermediazione se non sbaglio è stato a questo proposito è stato utilizzato diciamo specificamente in questa parte rispetto al ruolo delle organizzazioni non solo sindacali ma anche quelle datoriali da professor Caruso proprio parlando delle evoluzioni dei mercati del lavoro e dal ruolo della digitalizzazione in questa evoluzione e io in termini disintermediazione è un termine aziendale che credo che sia stato utilizzato per la prima volta nell'ambito diciamo del mondo bancario riferendosi al fatto che la presenza della tecnologia diciamo determinava appunto la possibilità che clienti e banche diciamo se il servizio fosse più fosse garantito senza la presenza dello sportello e a proposito sempre di quello che ricordavo prima cioè il professor Caldelli nello spiegarci la replica funzionale aveva fatto l'esempio del dello sportello del ferroviario della biglietteria ferroviaria e nella ricostruzione di tutta diciamo dei passaggi logici informatici che avevano determinato il passaggio dalla biglietteria al al servizio che adesso utilizziamo un po' tutti insomma e quello che avevano dato è che mancava proprio quello che mancava era la persona che diciamo presente nello sportello nello specifico qui il termine disinterminazione è utilizzato perché la tecnologia consente anche un contatto diretto tra lavoratori e datore di lavoro è questo il tema diciamo noi abbiamo partecipato sia ai lavori lucidi sul lavoro dello scorso anno erano presenti anche realtà aziendali importanti che parlavano di come si svolgevano allo stato attuale qual era l'effetto dei social durante le trattative sindacali cioè ad esempio da una parte i datori di lavoro si lamentavano che alcune notizie del tavolo che creavano dei problemi nella gestione erano determinate dal fatto che alcuni presenti ai tavoli avevano a disposizione i telefoni tutto il tema della negoziazione era diciamo a disposizione di tutti d'altro canto diciamo in un articolo il professor Barazza venivano sottolineati quali erano gli effetti anche della possibilità del datore di lavoro di contattare direttamente i lavoratori senza passare per il ruolo per il ruolo sindacale anche qui spesso e volentieri utilizzando gli strumenti digitali questo appunto è un tema credo come anche il professor Fadda ci indicava all'inizio corra è molto importante che quindi ad esempio per questo noi siamo partiti dal tentativo di una replica funzionale dell'articolo 20 adesso il fatto il fatto che noi disquisiamo molto sul tema del dovere di cooperazione datoriale quindi sul senso e la razio insita nell'articolo 20 dello statuto dei lavoratori non è capzioso ha un diciamo vuole riconoscere quale è il ruolo della tecnologia nell'ambito e nell'esercizio della prestazione e in quest'ambito lo statuto dei lavoratori promuoveva il ruolo dei sindacati per questo l'articolo 20 era scritto in quella maniera probabilmente come ancora una volta ci ricordava il professor Fadda si tratta di passare dagli strumenti tradizionali a nuovi strumenti e anche prendere in considerazione a questo fine la tecnologia non so se volevo soltanto aggiungere che il sindacato appunto viene avere con la strumentazione tecnologica potrebbe avere una limitazione proprio perché come diceva Manuel c'è questo contatto diretto tra il datore di lavoro e i lavoratori anche perché proprio per i lavoratori su piattaforma digitale di lavoro viene difficile anche per il sindacato reperire questi lavoratori perché si trovano comunque cioè non sono è difficile proprio e noi abbiamo proprio visto che è difficile per il sindacato contare questi lavoratori e quindi c'è questa bisogna evitare bisogna trovare degli strumenti e quindi la replica funzionale può essere comunque uno strumento idoneo per fare in modo che il ruolo del sindacato sia saldo e comunque ognuno possa giocare la sua partita all'interno di questo di questo di questo scambio anche perché comunque è molto importante il ruolo dei sindacati vista anche la precaria condizione di questi lavoratori nel mercato del lavoro diamo qualche minuto per vedere se qualcuno magari in chat scrive qualche commento se posso eventualmente posso aggiungere un ulteriore elemento sì a proposito di quest'ultimo cenno che ha fatto Silvia nella precedente fase del nostro lavoro avevamo proprio studiato l'emergere di un elemento inatteso nel senso proprio nell'ambito del lavoro per piattaforma del food delivery sono nate importanti esperienze sindacali quindi in una maniera per così dire in attesa perché poste le premesse di quello che abbiamo definito l'ikikomori lavorativo diciamo è appunto in attesa ebbene noi abbiamo esaminato in quel lavoro la nascita di due esperienze proprio degli antipodi una era il sindacato dei riders bolognese che ha determinato poi anche la sottoscrizione di una carta di impegni con il comune di Bologna e poi quella di una guild una guild dei tassisti new yorkese allora tra l'altro diciamo proprio agli antipodi diciamo anche diciamo ideologica esperenziale di queste due esperienze però aveva una cosa in comune queste due esperienze che nascevano proprio dal dal contatto diretto dei lavoratori e dal fatto che i sindacati avevano i nominativi sotto forma di numeri telefonici indirizzi e mail allora nell'esperienza dei riders del union riders bolognese veniva ricordato che uno dei primi elementi di riunione era garantito dal fatto che la chat agendale whatsapp inizialmente poteva essere utilizzata liberamente in una prima fase e quindi proprio quel momento di contatto fu eccezionalmente importante proprio per lo sviluppo poi dell'esperienza successiva la guild new yorkese una volta concordato con l'azienda uber che i lavoratori erano qualificati come lavoro autonomi in cambio e questo ha suscitato grande dibattito chiaramente perché anche di opposizione di contrasto però ha ottenuto i nominativi dei lavoratori quindi l'elemento della conoscenza in un mondo diciamo fatto di monadi separate cioè avere l'informazione è fondamentale proprio per questo noi siamo partiti proprio dal diritto di assemblea cioè come sottolineava Gino Giugni alla nascita è fondamentale proprio in termini di nascita dell'esperienza sindacale la possibilità almeno potenziale di unione tra i lavoratori e l'elemento della conoscenza è diciamo in un mondo polveri del lavoro polverizzato rimane per noi fondamentale non mi sembra ci siano commenti o altre domande sì allora sì grazie siete stati molto interessanti il tema è enorme io devo dire che quando ho sentito questo Caldelli mi è sembrato raggelante il discorso di Caldelli nel senso che trasformare l'analogico in digitale è quello che non si deve fare voi avete detto in vari termini su varie questioni come faccia fatica il diritto ad adattarsi a tutti i nuovi modi di lavorare e ce ne saranno sempre di nuovi sempre di diversi tentare di replicare l'analogico e tutto quello che si è fatto nell'analogico nel diritto nell'economia e in tutto quello che volete al digitale secondo me è un grande errore culturale nel senso che il digitale offre delle altre opportunità e quindi servono altre regole altre logiche l'idea di replicare il biglietto ferroviario o l'idea di replicare chissà quale procedura amministrativa ne abbiamo noi l'esperienza quotidiana quante carte vengono semplicemente trasformate in pdf ma sempre con la logica della carta vecchia dell'archivio a mano del 1812 questa è una logica che va abbandonata tutte le discipline in particolare se posso dire le discipline che hanno questa grande rigidità formale e devono in qualche modo fare un salto culturale cioè garantire diritti vuol dire anche non costruire un terzo passaggio un quarto passaggio digitale non è l'elettrificazione del diritto che stiamo guardando è un salto di qualità secondo me se posso subito replicare credo che sia dovuto l'elettrificazione del diritto è una sollecitazione eccezionale però chi dica di Emiliano è per fortuna che c'è lui però volevo entrare nel dettaglio di quello che ci aveva spiegato io e noi abbiamo abbiamo semplificato un po' in due parole quello che ci ha spiegato quello informatico il professor Caldelli la replica non è totale quello che lui diceva è importante la replica della funzione allora è per questo io in qualche modo quello che dicevo è che noi abbiamo bisogno della replica della razio di quell'articolo e da questo punto di vista diciamo ad esempio ricordavo il professor speziale rispetto alla diciamo alla possibilità che l'azienda comprasse Teams per il sindacato invece di utilizzare direttamente il Teams proprio gli sembrava una soluzione del tutto ottimale questo diceva allora però ci sono dei problemi nel senso che se il primo è quello della verifica della verifica della soglia legale se esiste una soglia legale come del tutto probabile se il tema chiaramente è quello dell'assemblea sindacale retribuita quindi c'è un problema di verifica però da questo punto di vista l'informatico ci ha spiegato ma questo è molto semplice per l'informatica fare questo tipo di verifica e quindi in questo caso la replica funzionale di un principio che è contenuto all'interno dell'articolo 20 è fondamentale magari nel prossimo e nel futuro articolo 20 ma non non credo sia possibile non ci sarà una soglia però io quello che stavo con diciamo quello che si sostiene non è una elettrificazione del diritto diciamo è che una volta in cui la norma stabilisce un principio questo principio deve passare attraverso attraverso la tecnologia noi in altri contesti grazie anche al contributo di un altro collega di Nicola Lettieri abbiamo parlato di tecnoregolazione proprio ad esprimere la possibilità che diciamo la tecnologia non sia solo normata ma sia parte sia attore della regolazione è questo che cerchiamo di sostenere in questo caso questo è un semplice esercizio quello che abbiamo compiuto sull'articolo 20 di cui però siamo molto riteniamo che il tema quindi della ricostituzione diciamo di una collettività dei lavoratori debba essere comunque è un tema in un contesto come ricordava il professor Fadda di declino dei tassi di sindicalizzazione e la tecnologia da questo punto di vista può essere di grande rilievo e di grande spinta e non diciamo come purtroppo siamo abituati quando i giuristi si occupano di tecnologia a diciamo a elettrificare il diritto non era questo lo scopo o il tema insomma io volevo aggiungere soltanto che cioè Emiliano da una parte cioè sono d'accordissimo con quello che dice Manuel perché c'è comunque è necessario proprio per perché non ci sia disintermediazione o non ci sia diciamo una regolamentazione poi non adeguata una traslazione pedissegua dal mondo fisico al mondo digitale però sono anche in parte d'accordo con Emiliano e è pure giusto che il diritto diciamo si adegui a quello che è il cambiamento del mercato del lavoro e quindi anche anche le stesse definizioni cioè per quanto i giuristi siano molto legati alle loro definizioni alle loro regole in realtà vediamo che c'è un mutamento quello del proprio il concetto di lavoro subordinato che sta mutando cioè che non è più la non ci sono più quei rigidi regimi di identificazione del lavoro subordinato ma c'è anche diciamo un'apertura anche per dare spazio a delle idee di fondo che questo mercato del lavoro ci costringe a interrogarci a trovare soluzioni quindi ad esempio la messa a disposizione di altri senza il rischio di impresa vediamo quindi che anche anche lo stesso la stessa definizione di lavoro interorganizzato quella era una norma che è stata inapplicata per anni e invece l'uso di questa norma ci fa vedere che comunque un'elasticità da parte del diritto è presente non c'è solo una traslazione dal mondo fisico al mondo virtuale quello è per ovviamente perché non ci sia una regolamentazione poi fittizia ma anche le regole stesse del diritto stanno mutando piano piano e si stanno adeguando a un mercato diverso c'è una domanda da parte di Rosita Zuccaro puoi accendere il tuo microfono e parlare grazie mille Irene buongiorno a tutti complimenti innanzitutto a Manu e a Silvia per gli interessanti spunti che avevo già avuto modo di sentire anche in altri seminari e che oggi ho avuto ulteriormente la possibilità di approfondire e la mia domanda verte sulla questione del come un corretto esercizio del diritto di assemblea sia fondamentale per l'insorgenza corretta e l'affermazione dell'interesse collettivo e quindi come la digitalizzazione possa comportarle una corretta definizione e non attesi anche fenomeni di disintermediazione magari non determinare la corretta sintesi degli interessi individuali che portano poi all'affermazione dell'interesse collettivo cui un corretto esercizio del diritto d'assemblea di quell'articolamento dello stato dei lavoratori è sicuramente uno dei contesti principali per la relativa definizione grazie grazie rosita questo è un tema piuttosto tecnico da questo punto di vista diciamo perché il tema che noi abbiamo a proposito di quello che diceva anche Emiliano dell'elettrificazione del diritto da questo punto di vista quello che rimane fondamentale è il potere di convocazione a chi spetta la norma da questo punto di vista l'articolo 20 disciplina il ruolo delle rappresentanze sindacali aziendali da questo punto di vista quello che appare fondamentale è diciamo dal punto di vista operativo è ad esempio l'uso della bacheca sindacale elettronica e quindi diciamo e della verifica del corretto esercizio da parte degli attori legittimati di questo diritto sempre a proposito della bacheca sindacale sempre a luci del lavoro qualche anno fa ci dicevano che ormai nelle aziende la bacheca sindacale fisica adesso non ricordo qual era l'azienda che quale rappresentante aziendale ce lo diceva che avevano festeggiato ormai festeggiato avevano onorato i funerali della bacheca sindacale fisica ormai da qualche anno ormai è una pratica piuttosto diffusa a livello aziendale della sostituzione di questi nuovi strumenti e da questo punto di vista a conferma di quello e se ho capito bene la domanda di Rosita è evidente che deve permanere la verifica garantita da quella parte della norma che conferisce nel contesto del diritto di assemblea riconosciuto a tutti i lavoratori che però conferisce solo a un determinato attore negoziale riconosciuto il diritto alla convocazione della stessa assemblea spero di aver risposto da Rosita grazie sì grazie Manuel se non ci sono altri interventi io ringrazio veramente tanto Manuel e Silvia per la disponibilità a partecipare a presentare questo interessante lavoro e vi do appuntamento al prossimo seminario che si terrà giovedì 11 novembre durante il quale avremo diciamo abbiamo invitato il professor Pietro Nero che è il presidente del centro di ricerca Fermi grazie ancora grazie a te buon lavoro e buona giornata a tutti grazie a te grazie a te grazie a te